Può uccidere a una distanza di mi pare 5-6 metri, come in genere quasi tutte le pistole. La penna pistola trovata all'interno dell'abitazione del 37enne cortonese, arrestato dai carabinieri lo scorso 30 maggio con l'accusa di aver violentato la moglie, può uccidere. È questo quanto stabilito dalla perizia balistica disposta dalla procura di Arezzo sull'arma per verificarne così la funzionalità ma soprattutto la pericolosità. È una pistola che è piuttosto funzionante ed è una pistola che a nostro avviso non appartiene al Ceramella. Nella stessa abitazione sono state sequestrate 93 armi ora restituite che non appartenevano a lui. All'interno dell'abitazione dell'uomo era stato trovato un vero e proprio arsenale. Le accuse per lui vanno dagli atti sessuali aggravati alle lesioni, dalle minacce al possesso di armi da fuoco. Il terribile abuso si sarebbe consumato nella notte tra il 23 e il 24 maggio scorsi, quando il 37enne, dopo aver sorpreso la moglie dalla quale si stava separando in auto con un'altra persona, in preda ai fumi della gelosia avrebbe prima aggredito entrambi per poi trascinare la donna in casa e violentarla. L'uomo, che ha sempre parlato di un rapporto sessuale consenziente, è detenuto nel carcere di Terni. Nei giorni scorsi il GIP Fabio Lombardo ha rigettato ancora una volta l'istanza di scarcerazione presentata dal legale del 37enne. Ritiene ancora sussistere i gravi indizi e soprattutto la pericolosità del soggetto. Adesso si va verso il processo con il rito immediato. Nel frattempo il PM Chiara Pistolese ha chiesto di sentire la donna con incidente probatorio.